Le nuove tecnologie e internet al servizio della memoria, questa la suggestione portata dal Consiglio regionale alla Due Giorni, organizzata dall'AMPI e dai comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, memoria fragile da conservare. Partendo dal progetto multimediale che raccoglie video e materiali dei viaggi promossi dal Comitato Resistenza e Costituzione, sono state presentate alcune idee per mettere a disposizione in rete materiali preziosi per la memoria delle tragedie del passato.